Oggi è una giornata molto importante per la società Kafka di presentazione con i propri stakeholder su quelli che sono i dati più importanti dell'anno 2022, non solamente una rendicotazione a consuntivo ma anche degli scenari di prospettiva e futura. Abbiamo avuto con il mondo diversità anche quelle che saranno le sfide, per esempio non solamente le infrastrutture ma anche modalità innovative di gestione della risorsa idrica, per esempio il riutilizzo e il riuso delle acque, l'acquedotto duale. Abbiamo aperto dei ragionamenti anche sulle modalità di sostenibilità della tariffa, affiancata anche da fonti finanziarie innovative e abbiamo aperto anche il mondo dell'innovazione, quindi non solamente la gestione tradizionale ma anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, la realtà aumentata, per passare poi anche la parità di genere alle ore di formazione e quindi alla grande importanza per società come la nostra, per il capitale umano.